Sono soddisfatto, del resto c'eravamo anche mossi su questo, anche io ieri avevo fatto le dichiarazioni, stentavo a credere che non si desse l'autorizzazione per fare una manifestazione che ha come oggetto principale un concerto dove parteciperanno musicisti, cantautori, artisti, quindi credo che sia una scelta assolutamente doverosa, non vedevo alternative a questo e sono anche convinto che sarà un bel momento di cultura meridionale e quindi un messaggio importante e forte che la cultura nostrana sa trasmettere oltre ogni confine, quindi sono soddisfatto che si possa tenere questa bella manifestazione che immagino sarà ricca di fantasia e creatività.